Lega Bordoni, se mi scrive, Presidenta. Grazie Presidente. Ma io devo dire che sono veramente molto perplessa, perché fino a quando certe riflessioni provengono da chi non è avvezza alle prassi politiche o alla prassi politica va tutto bene. Potrei farla io di pancia, no? Una riflessione di questo tipo. Ma quando provengono determinate riflessioni da chi la prassi politica l'ha sperimenta, l'ha vissuta per anni e anni e anni, ecco, il resto è veramente perplessa. Ma mi tengo la mia perplessità, poi ognuno farà i conti con se stesso, con gli altri, non lo so. Allora, se fatto giustamente riferimento al regolamento del 2017 a prima firma del consigliere Angelucci, quel regolamento evidentemente lo abbiamo dimenticato ha posto l'accento sulla dignità della persona, la dignità del bambino, la dignità anche del lavoratore, quindi del soggetto che deve far capo, che fa ancora capo a una cooperativa sociale. I regolamenti non sono mai statici, i regolamenti sono dinamici, vanno monitorati sul campo al fine di verificarne poi la ricaduta e apportare i dovuti cambiamenti. Quel regolamento, lo ripeto, è lo stesso regolamento che ha spostato l'asticella dall'attenzione alla mera assistenza, quando si parlava di IC, a un qualcosa di più, di più sostanziale, di più completo, anche di più dignitoso, diciamo, per l'operatore, per il bambino e per le famiglie. Qualcosa di più che evidentemente oggi necessita di ulteriore attenzione. non è viltà se oggi personalmente come Movimento 5 Stelle non ci sentiamo di approvare questa proposta di delibera, non è per viltà, ma è perché le cose si devono fare, si devono fare nei termini giusti e nei termini dovuti. Perché non si può approvare? Perché è una proposta di delibera che non ha le condizioni giuste perché tale proposta si possa concretizzare. occorre costruire un percorso nei termini giusti che tenga conto, e mi dispiace doverlo dire allineandomi con le riflessioni del collega Zannola, che tenga conto di competenze, che deve essere un qualcosa di affrontato anche a livello nazionale, perché Roma non è un'isola felice o infelice in un deserto, in una solitudine, è un ruolo, un compito che evidentemente deve essere affrontato a livello regionale e a livello nazionale. Non è viltà, se noi oggi ci asterremo da questa, esprimeremo un voto di astensione, ma è un voto di astensione che poi comporterà un impegno da parte nostra di tutta l'Assemblea Capitolina, non solo della maggioranza, ma di tutta l'Assemblea Capitolina, a verificare che il percorso si compia, trattandosi di un tema che va al di là delle singole posizioni politiche, ma di un tema che è di interesse comune e che coniuga esigenze diverse, lavoratori, famiglie, e soprattutto i bambini. Soprattutto i bambini in un momento molto particolare. E a conclusione, consigliera? Concludo, quindi probabilmente il primo passo sarà anche quello di intervenire a modificare il regolamento del 2017 senza la quale modifica evidentemente questa delibera non potrà trovare attuazione. Quindi, per il Movimento 5 Stelle un voto di astensione. Grazie.